Rapina mercoledì sera in un residence di lusso nel piccolo borgo di Mondonico, al Giatemolgora, al confine con Santa Maria Oe. Una coppia è stata tenuta in ostaggio per oltre mezz'ora prima che i banditi armati si dileguassero con il bottino. Vittime l'artista irlandese Sean Shanann e la moglie e designer Daryla Formentini. Rientrati a casa hanno sorpreso i ladri in azione, tre uomini, uno armato di coltello con il quale ha minacciato il pittore e la moglie. Sono stati attimi di terrore mentre un bandito controllava la coppia, gli altri due hanno letteralmente messo sottosopra l'appartamento costringendo i coniugi a consegnare soldi e gioielli per un bottino di decine di migliaia di euro. Dopo aver arraffato tutto quello che c'era di prezioso si sono dileguati nel nulla. Solo a questo punto l'artista, 58 anni, nato a Dublino, mostre in tutto il mondo, ha potuto lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con gli uomini della scientifica che hanno passato al setaccio all'appartamento alla ricerca di eventuali tracce lasciate dai rapinatori. Setacciati i boschi della zona, posti di blocco e controlli sulla strada, ma i banditi al momento sembrano essersi dileguati nel nulla. Massimo il riservo sulle indagini da parte degli inquirenti.